Roberto Migliori è responsabile nazionale per quanto riguarda il settore master, sia maschile che femminile. La prima domanda è questa, c'è più l'interesse nel femminile o nel maschile? L'interesse è comune, il problema è che, chiaramente, come capita nell'agonismo, sono più le scuole maschili che quelle femminili. E partecipate ai vari campionati in tutta Europa, nel mondo? Partecipiamo fondamentalmente a un campionato italiano che abitualmente si svolge a luglio ed è itinerante, nel senso che cambia città a seconda di alcune esigenze. E poi ogni anno c'è o un europeo o un mondiale. Qui siamo all'Argentario, c'è una lunga tradizione. Secondo lei perché questo attaccamento alla palla al moto da parte dell'Argentario, in modo particolare rispetto a tanti posti di mare? Ma fondamentalmente non saprei, di questo ne sono felice perché, tra l'altro, frequento la piscina d'Argentario già dagli anni 70, quando facevo ancora l'allenatore. E ho sempre visto che le squadre si erano ben attrezzate. Probabilmente anche la vicinanza con Civitavecchia, che è una delle squadre più importanti, o lo è stata una delle squadre più importanti. Mi sono accorto e ricordo che parecchi giocatori andavano a giocare a rinforzare l'Argentario. Per cui questa tradizione è cresciuta nel tempo, sino a che poi alla fine anche la femminile ha attecchito, se non come squadra agonistica, ma come squadra master. Che cosa spinge a questi signori uomini, magari sono ingegneri, avvocati, dottori, o queste signore o signorine che sono diventate mamme, qualcuna anche nonna, a perdere tanto del loro tempo per questo sport? La passione, sicuramente. È un'attività che se hai fatto da giovane ti resta nel cuore. È una delle poche attività che se non hai fatto da giovane, da grande, diventa complicato farla. Mentre appresso a un pallone può giocarci anche uno che non ha mai fatto del calcio, con la pallonuoto e con altri sport simili, di queste discipline sportive dell'acqua, diventa complicato farlo. C'è la passione, probabilmente si ritagliano nel tempo, alziché andare a fare la corsetta o la palestra, vanno ad allenarsi in piscina. E anche a una certa età, grazie all'attività master della Federazione Italiana Nuoto, soprattutto, riescono a continuare a fare l'attività che hanno sempre fatto e che amano. Ecco, io so che molti atleti e atlete, magari per lunghe trasferte, devono intervenire anche, parliamoci chiaro, anche di tasca propria. Come interviene invece la federazione? Allora, la federazione non interviene, assolutamente. L'attività master per spirito è autogestita, nel senso che ogni master si paga la sua attività. La maggior parte delle volte paga anche l'attività, quella nazionale, per cui non dico che devi avere i soldi per fare questa attività, però come spirito, quello che noi chiamiamo lo spirito master, è quello che ognuno si debba pagare la propria attività. Chiaramente, laddove c'è la possibilità di avere qualche sponsor, ben venga e aiuta sicuramente chi magari può di meno. E' uno sport di squadra, per cui non tutti possono permettersi, qualcuno non può, lo spostano. Quando interviene, interviene a ragione veduta. A livello mondiale invece, in che fascia collochiamo sia il master maschile che il femminile? A livello mondiale, per quanto riguarda il maschile, una piccola differenza con l'Italia rispetto alle altre nazioni è che gli ex campioni, quelli che hanno fatto 4-5 Olimpiadi, frequentano molto l'attività master. In Italia, giusto negli ultimi anni, qualcuno si sta affasciando. La ritenevano probabilmente una sottospecie di pallanuoto, ma in effetti così non lo è. Per quanto riguarda le donne, invece, ho visto che, nonostante le difficoltà che ci sono per creare già una squadra femminile agonistica, riescono comunque a fare delle formazioni non ultime all'argentario, che è sempre in vetta o in Europa o nel mondo. Ci sono idee o progetti per migliorare comunque queste due attività, sia maschile che femminile, nel master? Per la femminile ancora è presto, siamo ancora in una fase di rodaggio, soltanto da due anni abbiamo diversificato le categorie perché le ragazze crescono ed è giusto pure che possano giocare con le loro parietà. Per la maschile abbiamo una forte concorrenza con gli enti di promozione, WISP, XEN e quant'altro, che però utilizzano un sistema di far giocare tutti dai 18 anni a quelli di 60 anni, con evidenti problemi di gioco quando persone di diversa età sono in acqua a fare la stessa cosa, la differenza è notevole. Mentre invece la Federazione Italiana Nuoto, che segue il dicta della FINA, quindi la Federazione Internazionale e di quella europea, fa giocare gli atleti a seconda dell'età, quindi con le categorie. Siccome parliamo di pallanuoto, guarda caso, io non lo sapevo, ma questo sindaco Arturo Cerulli ha fatto pallanuoto, è vero? Più che fatto ho fatto fare, perché io ho sempre fatto fare gli altri, insomma, non è che... Hai fatto l'atleta? No, 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 diciamo qui, io ho fatto... Sarò stato socio, sarò stato atleta nominalmente, con tanto di cartellino, ma nella realtà ho fatto l'allenatore, ho fatto il presidente. Che fai, ti imboscavi? No, ero poco bravo, ero poco... Insegnavo a notare la gente non essendo capace io, insomma, ero un po'... Quanto ora c'hai il figlio? Il figlio è il più bravo di me, sicuramente lui gioca, quindi lui sta giocando, bravo, ma io ero... mi piaceva più insegnare agli altri, ho sempre avuto questa passione. Questa squadra master femminile che porta in alto il nome dell'Argentario, è importante. Questa è una bellissima cosa, perché, diciamo, tutto fa brodo, no? Ed avere una squadra che a livello internazionale porta avanti il nome dell'Argentario è veramente un bel risultato. Noi ringraziamo per questo il presidente Loffredo, anche lui è stato, come me, presidente della vecchia Rarinantes, negli anni d'oro della pallannota argentarina, quando giocavamo a Montserrat B, quindi, insomma, per noi è una storia da ricordare e di cui ci ricordiamo sempre volentieri. Ma oggi, almeno, abbiamo questa sezione che consegue risultati veramente importanti. Ripeto, titoli internazionali, titoli nazionali, bravi a loro e bravi a tutti quelli che gli stanno dietro. Allora, visto che non l'hai fatto da giovane, ma adesso ci sono anche i master maschili, ma è venuta l'idea di fare il master di pallannuoto? Io potrei fare il pallone della pallannuoto, francamente non credo che possa fare. Facciamo una cosa, se il presidente Loffredo gioca, allora gioca anch'io. È una sfida che lancio, se lo mettiamo in acqua a Loffredo io poi gli vado a dare mano. E allora adesso parliamo di nuoto sincronizzato. Sincronizzato. Ne parliamo con una persona che ha avuto il coraggio per prima di portare il nuoto sincronizzato master in Italia, forse in Europa. Rumi Cucchetti, è così? Eccomi qua, sì, è vero. Sono io quella che doveva fare tutte queste cose e continuiamo ancora ad andare avanti. e quindi adesso stiamo preparando per i campionati europei a crani in Slovenia e quindi avremo tutte le nostre atlete, le nostre ragazze, specialmente le nostre tre ragazze qui di Porto Santo Stefano. Ecco, ma quando nasce realmente il sincronizzato master? È nato per uno scherzo. E perché? Quindi ho abitato a Riccione per 15 anni e quindi in acqua facevo con tutte le mie amiche e facevano dei balletti acquatici. Ecco, il nuoto sincronizzato è uno di quegli sport che raramente trova spazio nei media nazionali e internazionali, forse nelle Olimpiadi. Ma secondo te perché? Perché poi ha delle figure, delle cose così belle, così eleganti che venirebbe a vederlo tutti i giorni. E' vero, il fatto è che è anche molto complicato, però il sincronizzato è sempre stata una cosa per far vedere la bellezza delle gesta di questo sport. Quale deve essere la cosa più importante che un atleta deve avere per fare questo sport? Prima la volontà, secondo la volontà, terza la volontà e non arrendersi mai. Io lo dico sempre ai miei atleti, prima di entrare in acqua non arrendiamoci mai. Cosa vorresti dire ad una bambina perché inizi a fare questo sport? Giocando. Giocando, facendo vedere, fare sentire della musica e dopodiché quello che l'allenatore sa può farlo. E invece a chi non è più bambina, ma per continuare a fare questo sport, quindi diventare master, cosa vuoi dire? Beh, il master intanto è sempre uno sport uguale, tale quale uno nuota uguale, che sia giovane o vecchio o altro. E il master è sempre di stare sempre insieme, di non fermarsi mai. Quindi non è che uno dice adesso vado a fare una nuotata, poi basta, non mi interessa più. No, diventa una specie di fissazione il master. Ma magari hanno famiglia, hanno figli, hanno il marito. Sì, vengono in parte, infatti il master sono quelle, tutte le famiglie, quando partono vanno mamma, nonna, zia, quindi è questo, ed è un aiuto, un aiuto. Cosa ti ha dato il sincronizzato e che cosa tu hai dato al sincronizzato? Beh, io ho dato tutto quello che volevo fare, non ho dato, ho preso, che è diverso. E quindi le mie ragazze diventano mie, sono un po' così. Però non so come dirti cosa succede, il sincronizzato è stare insieme. E infatti ci sono delle brave atlete che funzionano, come quelle che abbiamo noi qui a Porto Santo Stefano, che hanno fatto dei risultati incredibili e quindi questo è. Dopo tutti questi anni di attività, tante ragazze che sono passate sotto la tua guida, tu sei un'allenatrice, tutte appunto, ce n'è qualcuna che ricordi in modo particolare? No, le ricordo tutte. Quindi tutte allo stesso pari, anche le campionese del mondo? Sì, certo. Perché ne hai avute? Ne ho avute, ne ho avute, sì sì, ne ho avute un bel po'. Però è uno sport che, non so come spiegarlo questo, perché devi sentirlo, devi sentirlo. Io parlandone già sento la pelle, come si dice sempre di solito, allo stato naturale, detta d'oca. Perché è una cosa che abbiamo addosso. Non ci costringono. Se noi vogliamo fare una cosa, la sentiamo e possiamo andare. Il famoso dice, alzati Lazzaro e cammina. Ecco, questo è. C'è una cosa che avresti voluto fare e non sei riuscita a fare? No, ho voluto e fatto tutto quello che volevo. E quindi cosa ti rimane dentro dopo tutti questi anni? L'emozione parlandone. Sara Fanciulli e Lucia Scotto, allora sono le due atleti santo-stefanesi, di cui ci ha parlato prima Rumi Cucchetti. Siete sposate? Sì. Anche tu? Lo ero. Ah, figli? Sì, due. Due. Due bambine. Ma vedete come fate allora, con due bambine, il lavoro magari a seguire questo trattore che è la Rumi Cucchetti? È dura, ma ci organizziamo e riusciamo a fare tutto, perché insomma ci piace tanto continuare questa avventura con Rumi. Quanto è importante comunque continuare a fare questo sport per voi? È fondamentale, perché ti fa rimanere legato non soltanto alle amicizie, che magari poi con la vita si perdono. non dico che ti fa rimanere legato a una persona come Rumi, perché Rumi ti rimane dentro a prescindere dallo sport, ma è proprio vero, come diceva Rumi, è una cosa che rimane dentro e a un certo punto diventa un bisogno, è un bisogno di continuare a farlo. Com'è come allenatrice Rumi? È una di quelle toste oppure vi lascia fare? No, assolutamente, è molto tosta. Quindi è proprio dura, degli allenamenti pretende il massimo? Sì, ma è giusto così, deve essere così. E per te allora che cos'è questo sport master, questo sincronizzato? Scusa, non voglio dire la tua età, ma insomma non sei più una bambina, quindi sono passati gli anni, però sei sempre lì. No, dopo vent'anni ci siamo rimessi in gioco e è stato bello, infatti continuiamo nonostante le difficoltà che ci sono con la vita di tutti i giorni. Quali sono le maggiori difficoltà? Le maggiori difficoltà sono sicuramente la vita quotidiana, quindi dividere il tempo tra appunto famiglia, figli, lavoro e anche un po' l'allenamento, comunque non è facile trovare gli spazi perché purtroppo il master non è l'elite, si chiama, ma è uno sport che sta prendendo sempre più importanza, però si deve un po' sgomitare per trovare i propri spazi. E quindi a noi fa piacere comunque portare in giro il nome dell'argentario nuoto perché quando sei a Budapest a Crani piuttosto che a Londra che chiamano il nome representing tu argentario nuoto e senti il nome del tuo paese che comunque anche all'estero, anche con il master, fa piacere. E allora vi state già preparando per il prossimo mondiale? Sì, gli europei a Crani. Gli europei a Crani? Sì, sì, sì. Quindi di nuovo allenamenti con Rumi? Sì. Non mi sottotoglio. Quest'anno gareggerà. Quest'anno Rumi è partito come uno scherzo, io pensavo che mi tirasse come sempre una sedia perché Rumi questo era uno dei metodi di allenamento e dico Rumi dai quest'anno ormai la categoria è la tua, devi scendere in acqua, quindi Rumi quest'anno non solo ci allena ma farà l'atleta. Addirittura. Non dico la categoria, Rumi. Questa è una novità. Signora, categoria 80-90, è uno spettacolo, ovviamente lei è una bambina di questa categoria, è appena entrata, però ci fa l'onore di scendere in acqua, io penso che piangeremo tutti dall'emozione. Siamo con un grande atleta, io dico così, Gianni De Magistris, che comunque sempre rappresenta e ha rappresentato la palla nuoto. in un momento importante anche della palla nuoto femminile, credo. Sì, intanto grazie, anche se con rammarico dico che non tutti la pensano così perché volte e volte si è dimenticato e questo fa dispiacere, soprattutto in Italia, magari sono più ricordato all'estero che non in Italia. Al di là di questo, sì, credo di aver legato il mio nome sia alle vicende direttamente come atleta e poi come allenatore perché ho fatto poi per tanti anni allenatore della Florenza maschile e poi della Fiorentina water polo femminile che forse mi ha dato anche le soddisfazioni più belle. Secondo lei, com'è ora la situazione della palla nuoto, proprio in senso specifico? Un aggettivo semplice, drammatica. È drammatica perché è uno sport che secondo me agli italiani piace, piace molto. Ci sono tanti dati per poter commentare questo discorso. Me ne viene in mente uno, finale olimpica del 2004, Italia-Grecia femminile, alle 6 di pomeriggio, alle 7 di pomeriggio, alle 6 italiane o italiana, del 20 agosto, quindi un orario in cui la gente va al mare e ci furono 7-8 milioni di italiani a vedere la finale. Quindi la parola to piace è che non la sappiamo vendere, non la sappiamo far capire e poi ci mettiamo del nostro anche cambiando continuamente i regolamenti per cui anche uno qualunque che volesse avvicinarsi viene a vedere una partita e capisce realmente poco. I giovani ci sarebbero ma chiaramente in queste mille difficoltà di impianti e così via diventa sempre più difficile. Sì, tra l'altro proprio di questo volevo parlare. Nei momenti di grande splendore di qualsiasi sport c'è poi una scia di giovani che poi rendono importante quello sport e noi non abbiamo mai saputo anche nei momenti dove siamo stati eccezionali approfittare di questa scia. No, è il classico modo di fare all'italiana sette bello, sette rosa se ne parla per dieci venti giorni durante le Olimpiadi durante i campionati del mondo vinciamo quasi sempre o spesso medaglie e poi ritorniamo nel dimenticatoio verità assoluta quella che hai detto perché è chiaro basta pensare perché a volte si parla di sport sociale sport agonistico ma le cose vanno di pari passo basta pensare quando Tomba vinceva tutti andavano a sciare quando Panatta vinceva tutti giocavano al tennis la Pellegrini più recentemente ha cominciato a vincere e tutti le piscine piene riempite di bambini perché le gesta del campione poi hanno un effetto boomerang in positivo sui giovani noi non riusciamo vinciamo l'Italia ha vinto l'Italia dieci giorni sette rosa sette bello la gente si sciacqua la bocca e poi nel dimenticatoio basta guardare le piscine sono obsolete sono vecchie il più delle volte sporche e quindi chiaramente non può essere uno spettacolo degno di uno sport come il nostro che poi tra l'altro c'è anche da dire una cosa che spesso le piscine che sono in Italia gli impianti che sono in Italia sono poi demandati alla gestione dei volontari perché poi in realtà non c'è una società sportiva in quanto lo Stato non l'aiuta che può resistere le società sono alla canna del gas nel senso vero perché la situazione nazionale è difficile e quindi chiaramente lo sport non è più come una volta una cosa di prima necessità cioè molte famiglie tra l'altro trovano difficoltà perché poi fare sport talvolta costa non dico il nuoto perché magari con un paio di costume e un occhialino ma insomma fare lo sport in generale le piscine i corsi ma la cosa grave è la federazione secondo me perché la federazione io prendo un esempio perché sull'esempio mi spiego meglio il rugby che in Italia credo fosse uno degli sport meno seguiti ora riesce a fare 50-60 mila persone riempire lo stadio olimpico però c'è stata la federazione in grado di fare un battaggio tale per cui ora la gente va a vedere la partita senza neppure sapere le regole perché sono convinto di quei 60 mila ce ne saranno 50 che saranno le regole del rugby però il popolo e mi sia perdonato il termine è un greggio di pecore che segue l'onda se tu gli vendi bene una cosa vai quando invece la cosa viene dimenticata nessuno poi si interessa più tra l'altro in Italia non c'è una cultura sportiva per cui molte persone vanno a vedere solo la squadra che vince quando invece tu vai a vedere l'NBA americana e i sport sono pieni anche contro una squadra ultima cioè quando una squadra gioca a un certo livello dovrebbe essere comunque seguita per Gianni due momenti importanti della tua vita sportiva ma è difficile sono tanti poi sono belli sono belli anche quelli brutti sportivamente cioè per dire la medaglia d'argento di Montreal che perdemmo immeritatamente contro l'Ungheria perché ci fu sostanzialmente rubata uso il termine l'aggettivo giusto perché eravamo in partita nettamente avanti poi un arbitro insomma fece di tutto e perdemmo 6 a 5 e che ci costrò la medaglia d'oro però è comunque un ricordo importante perché è una medaglia comunque bella e che poi io ho sempre valutato con il giusto valore perché anche in questo in Italia si suol dire ho perso l'oro invece io ho detto ho vinto l'argento perché insomma non è che l'ha avuto io una medaglia d'argento poi ovviamente c'è la medaglia d'oro a Berlino che è la medaglia dei mondiali sempre contro l'Ungheria con lo stesso arbitro che devo dire con onestà in quella circostanza ci venne incontro forse membro della partita di due anni prima poi quelli da nel club con la Florenzia ha vinto degli scudetti come allenatore giocatore e chiaramente insomma sono tutta la mia gioventù perché presi la squadra a 22 anni come allenatore giocatore poi ha vinto questi scudetti chi c'era con te c'era Panerai mio fratello Riccardo c'era Ferri c'era Rossi era una squadra di tutti i fiorentini nati all'area di Nantes quindi che già a quei tempi combatteva contro la Prorecco che invece facevano un bassa nel mercato per cui fu uno scudetto diciamo bello forse il doppio rispetto ad altri e poi forse quello che è stato il successo più bello dal punto di vista sportivo quello con la Fiorentina Waterpolo però è stato anche il rammarico e l'amarezza più grande perché a Firenze siamo arrivati dopo anni a vincere una Coppa dei Campioni una squadra che secondo me avrebbe fatto la storia perché se non ci fossimo sciolti avremmo vinto forse 3, 4, 5 scudetti e altre Coppe dei Campioni perché in quel periodo ci scontravamo contro l'Orizzonte di Catania che aveva 7 campionesse olimpiche e le mie erano tutte bambine noi avevamo vinto questo scudetto e questa Coppa dei Campioni poi promesse tante e mantenute nessuna e poi piano piano ci siamo sciolti come era neva il sole Di quel periodo di quell'eccellenza sportiva che tu hai vissuto chi erano i tuoi amici negli altri sport? C'è qualcuno con cui ti frequentavi? Ma guarda ho avuto tanti ti dico ho conosciuto Panatta a 21 anni che venne a giocare del Mediterraneo di Smirne tutta la delegazione era scontenta parlo degli atleti perché veniva un professionista in mezzo a tre disgraziati e quindi ce l'avevamo fatti quasi un giuramento di non considerarlo poi Adriano invece è della mia stessa anno di nascita venne lì era solo poi diventai amicissimo stai insieme era il periodo in cui lui stava con vita medici e quindi mi raccontò quindi poi da lì l'ho sempre sentito poi tutti i giocatori di basket da Meneghin Marzolati in testa perché a livello olimpico la palla nuota e la palla canestro vanno sempre di fari passo quindi quando c'è da fare scherzi burle sono sempre insieme e quindi potrei ricarne decine centinaia quello che mi fa piacere è che ti ripeto forse fuori dal mio sport mi ricordano tutti con piacere e all'interno della mia federazione io credo che se vado in federazione mi domano anzi è già successo ma lei dove va non mi fanno nemmeno entrare quindi questo mi amareggia non sai quanto però anche perché insomma si vede anche nelle partite ora di qualsiasi sport che quando provengono dall'estero c'è sempre nelle tribune molti anzi loro sono orgogliosi che ci siano atleti che sono stati importanti sì invece da noi fa tutto l'esatto contrario io che non sono invitato dalla federazione a qualche cosa saranno dei decenni quindi figurate probabilmente il mio carattere ha giocato in questo ma sono orgoglioso di essere così e morirò così quindi se mi vogliono mi chiamano altrimenti non mi presento certo a dispetto dei santi parliamo di una cosa che per alcuni forse può sembrare sconosciuta un movimento che è quello dei master dove si vedono anche atleti che hanno giocato anche con grandi risultati ritornare in acqua con molta passione molta felicità solamente che anche in quel caso c'è un referente diciamo del CONI che pensa solo al master che però è come un ministro senza portafoglio mentre in realtà si chiede all'atleti di autofinanziarci guarda io ho avuto il piacere di andare 4-5 anni fa a Riccione a un campionato europeo mi sembro o mondiale europeo non ricordo bene come allenatore di una squadra ligure e devo dire rimasi affascinato allo stesso tempo però come sempre demoralizzato dalla federazione nuoto che considera i master un portafoglio per sé cioè fa pagare qualsiasi cosa tu faccia quindi l'atleta oltre a finanziarsi ma ha una serie di spese e le società che i volontari che fanno questa cosa sono in continua salita io invece vedrei i master una parte importante di una federazione perché nei master ci possono essere tanti vecchi atleti anche non bravi non famosi che magari ritrovando il vecchio ambiente potrebbero essere di supporto e non da poco per quella che è la pallanota agonistica del momento invece noi assistiamo sia ad alto livello banne più piccole che uno smette di giocare e si allontana definitivamente dallo sport esempio pratico la nazionale del 78 campione del mondo dove io facevo parte non c'è nessuno di quella squadra che sia rimasto nell'ambiente della pallanota quindi tu disperdi un valore tecnico un valore morale e qualcuno potrebbe essere anche un valore economico perché nulla vieta che qualcuno dei vecchi giocatori poi si innamori a tal punto da essere coinvolto anche direttamente come sponsor e il tutto perché non c'è una cultura sportiva ma ribadisco la federazione non fa nulla per avvantaggiare un mondo che potrebbe essere numerosissimo cioè in altri paesi Ungheria in testa vedi delle partite anche con 7000 persone qui sarebbe facilissimo prima delle partite di campionato fare delle partite master belle tra l'altro giocatori che magari hanno fatto la storia che magari porterebbero altre 1000 persone o 2000 a vedere la partita sarebbero sicuramente di supporto sia per lo spettacolo sia per l'impianto sia per ripeto anche per un'immagine del nostro sport che per molti non c'è le due nazionali femminile e maschile cosa ne pensi? sono il rinnovamento sinceramente hanno fatto gli ultimi risultati sotto le attese gli ultimi mondiali però sono due nazionali sempre lì e sinceramente nonostante le miriade di difficoltà che incontrano quotidianamente a livello di nazionale riusciamo ancora a reggere l'urto a livello maschile c'è sempre da temere la Serbia la Croazia e l'Ungheria che ha un momento un po' di cambio generazionale ma che comunque rimarrà sempre la numero uno al mondo a livello femminile in questo momento c'è gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti che sono sostanzialmente una squadra imbattibile e l'Italia comunque che se la gioca con un gruppo d'europeo importanti ma credo che possa sempre essere un'aspirazione di medaglia per qualsiasi manifestazioni che si vada siamo col generale Antonio Radogna un personaggio che la palla nuoto la conosce molto bene sempre stato vicino a questo sport importante dell'acqua soprattutto la passione quanto conta? innanzitutto se non c'è passione non c'è voglia desiderio di fare le cose e più mettere l'impegno nel cercare di fare nel miglior modo possibile qualsiasi cosa e in più avvantaggio dei giovani perché io fino a quando sono stato il team manager della squadra sono sempre soltanto in mezzo ai giovani ultimamente invece sono ho lavoro con le squadre dei master e quindi è tutt'altro tipo anche di personaggio ma ti trovi a contatto non più con i giovani ma con grandi personaggi che sono stati campioni della palla nuoto a livello giovanile e continuano a farlo adesso a livello master tra l'altro lei ha avvicinato anche atlete che hanno fatto parte del famoso Settebello Rosa e di altre situazioni eh sì quando appunto giocavano nella Fiorentina Waterpolo di Firenze c'era la grande Elisa Casanova la Elena Gigli che era stata la più giovane medagliata olimpica con le Olimpiadi del 2004 ad Atene la Frassinetti che è attuale anche vicepresidente della federazione dell'associazione dei giocatori la L'Api la la Cotti che attualmente ancora gioca in nazionale e quindi sono stato a contatto con oltre al fatto che con le squadre delle altre nazioni perché ho organizzato mondiale 2009 mondiali master 2012 gli europei e quindi io sono stato sempre a contatto con grandi atleti di tutte le nazionalità è vero come diceva Gianni De Magistris che in alcuni casi la federazione non guarda le grandi difficoltà che hanno le società sportive e anche nel master non è che abbia un occhio di riguardo ma il discorso della federazione sì la federazione forse dovrebbe fare qualcosa di più ma i problemi grossi della federazione sono le strutture che mancano e quindi le società non possono migliorare avere dei settori giovanili ricchi di personaggi per portare dei nuovi ricambi alla squadra nazionale è un problema che coinvolge tutte le squadre non soltanto di pallanuoto ma anche quello del nuoto nelle altre nazioni ci sono impianti migliori nelle altre nazioni ci sono due consigli da fare uno la mentalità agonistica e l'amore che hanno per questo tipo di sport l'abbiamo visto agli ultimi mondiali a Budapest dove le partite dei master quindi degli ex campioni avevano un pubblico di 7000 persone ogni sera tutte le partite che giocavano e in più le altre nazioni hanno la cultura dello sport quindi hanno un'impiantistica favolosa a livello di tutti i settori sportivi non soltanto nuoto pallanuoto a Budapest c'erano otto piscine cosa che da noi una città grande per dire come Roma c'è una piscina dove tutte le società lottano per avere un'ora di spazio al foro italico è inammissibile considerando il numero di società che frequentano questa piscina quindi a livello strutturale c'è una carenza enorme ma a livello nazionale che piacere sia vivere nel mondo dei master il mondo dei master il piacere è che ti trovi come ho detto all'inizio con persone di una certa età ma che hanno la stessa voglia di giocare di volontà di impegno e di mentalità giovanile e quindi se è il caso strano sono persone anziane ma con una voglia matta di continuare a praticare questo sport basta vedere che a Budapest abbiamo rincontrato un indiano di 100 anni che adesso continua a fare i mondiali e gli europei per i tuffi da 10 metri a 100 anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.